Prima Videani, quello che ci aspetta dal marzo di Prime Video è qualcosa di limitato ma allo stesso tempo estremamente interessante. Anche questa volta preparatevi bene che non voglio perdere nessuno di voi durante queste anticipazioni. Partiamo! Come sempre, prima di iniziare, qualche breve recensione così da facilitarvi la visione o meno. No, sappiate che ho intenzione di parlare pure del prossimo futuro del Signore degli Anelli, quindi ancoratevi ancora meglio alla sedia. Il primo consiglio cade su Reacher, bella serie che pensavo sarebbe stata più terra-terra e invece ti prende perché è ben costruita e basata su buoni presupposti e un discreto affiatamento tra i vari personaggi. Posseguo con la rivelazione di Vox Machina che merita assolutamente una visione, visto quanto i personaggi sono allo stesso tempo cazzoni ma complessi e ben strutturati. Una serie volgare e decessiva che si posiziona tra The Boys e Invincible, di sicura presa sui giovani. Ho avuto anche modo di vedere le prime puntate della seconda stagione di LOL prima di questo video e sì, e ancora sì, è una serie comica di cui c'era effettivamente bisogno e che devo divorare senza dissoluzione di continuità. Gustanti fuori scala, Maccio sempre sul pezzo, Forest e la Raffaele ottimi, gli altri poco più che spettatori, fiondatevici subito! Ma ecco i nuovi attesi arrivi del mese di Prime, che punta parecchio sulle serie animate per adulti. Arriva così The Boys Diabolical, previsto per il 4 marzo. Inutile dire che è una serie ambientata nell'universo di The Boys e sarà formata da soli 8 episodi antologici, quindi ognuno avrà una storia indipendente e si spera autoconclusiva della durata di circa un quarto d'ora. Non molto, ma se sono puntate fatte con cura e che possano approfondire l'universo di The Boys, ben vengano. Sinceramente le attendo come passatempo a colazione. Dite che è troppo forte iniziare la giornata così? Meglio una peperonata? Ed ecco una seconda stagione che molti fan aspettavano con ansia, Star Trek Picard in arrivo, sempre il 4 marzo. Dopo una prima stagione che ha convinto, non me, ma qualcuno l'ha convinto, il ritorno di Patrick Stewart che in persona Picard era molto atteso, tanto che è già stata messa in cantiere una terza ed ultima stagione. Io lo dico, la prima stagione non mi ha detto nulla, storia sconclusionata degna di un episodio doppio di TNG che pareva più un Amarcord revival fanservice di quello che molti avevano amato negli anni 90. Questo non vuol dire che è così inguardabile come Discovery, semplicemente che non mi ha lasciato nulla e se non un po' di imbarazzo nel rivedere un Picard ricoglionito e non proprio in forma. Vediamo se in questa stagione una miglior storia riuscirà a coinvolgermi, perché alla fine i personaggi ci sono tutti e anche validi. Ma eccoci al momento, che più attendo di questo mese, l'arrivo della seconda stagione di Upload dall'11 marzo. Se vi foste persi la prima stagione, ma dove vivete? In un pianeta invaso da pandemia e guerra? Ah, io non lo so. Forse in voi recupererei questa storia del dopo vita surreale e tecnologica, una versione comica e simpatica di un episodio di Black Mirror. Vediamo quindi come evolverà la vita da Sims del nostro Nathan, che si trova in un bel pasticcio, sia amoroso con i contrapporsi tra la sua ragazza, che si fa caricare a Lakeview, e il suo angelo Nora, che è passata però alle forze ribelli, sia a livelli di grande mistero che nasconde la società proprietaria dell'aldilà virtuale. Come dicevo, tanta satira sulle tecnologie attuali e quelle che verranno con problemi etici da non sottovalutare. Prima stagione che ho adorato e spero che questa non sia da meno. Per gli amanti dello sport motoristico delle due ruote, ecco che arriva MotoGP Unlimited dal 14 marzo. Serie incentrata sul mondiale della MotoGP dell'anno passato, lo specifico che magari pensavate alla Superbike. Ultimo mondiale del nostro iconico Valentino Rossi, che ha corso per così tanto tempo che io non mi ricordo altre gare in moto senza di lui. Con questa serie si potrà entrare direttamente in contatto con la vita delle case costruttrici e dei piloti durante i weekend. Una vita nel paddock per raggiungere i risultati migliori dei propri avversari. Insomma, un clone di Drive to Survive di Netflix, ma legato alle due ruote che per fortuna ci regalano ancora gare avvincenti. Lasciamo quindi spazio ad un thriller interessante, si tratta di Acque Profonde, previsto per il 18 marzo. Un film con Ben Affleck e Anna De Armas, che interpretano una coppia di New Orleans molto ricca e influente nella società. Qualcosa però nel loro matrimonio non funziona, e tra i due scatta un vero e proprio tormento psicologico con bullismo, risentimento, sospetti e gelosie. Il tutto sfocerà in vere e proprie sparizioni degli amanti o tre schiamorose di Melinda. Insomma, direi che è una guerra dei roses moderna e più colorata di rosso. Film di un genere però particolare e che potrebbe essere quasi interpretato come piccante in certi giochi di coppia, ma che potrebbe anche risvegliare l'interesse di un appassionato di un buon cinema, da tenere quindi in considerazione. Arriva infine il momento di parlare male. Ma che dico male? Malissimo! È stato svelato il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, la prossima serie Amazon legata al noto e amatissimo mondo fantasy. Ebbene, io non ho parole. Non ho parole perché non capisco come mai ci sia la reale volontà, quasi godimento, a mandare al macero cent'anni di fantasy, con l'ardire di mettere malo non solo ad una storia, ma ad un intero mondo che ha una sua struttura, le sue regole ben definite, e tutto per dare un segnale di finta inclusione e di ammodernamento che però non credo serva. Stessa cosa fatta da Apple per fondazione. Insomma, vedremo. Io ho paura perché dalle notizie vogliono proprio riscrivere la storia della Terra di Mezzo e il motivo sarebbe che sotto sotto Amazon non avrebbe tutti i diritti da poter vantare su questo mondo. A me piange il cuore per questa svendita culturale, ma probabilmente sono diventato vecchio e il giusto da ritrovarmi a non capire il cambiamento. Mi raccomando, non fuggite subito da questo video che ci sono altri super arrivi, ma prima spolliciate in su, iscrivetevi e scampanellate, come se non ci fosse un domani. Io mi preparo a ricevere il flusso dei vostri commenti e dei vostri flame, che si fanno però sempre più radi e questo mi spiace. Cioè, che fate? Pensate che sia una persona seria? Io? Per farvi cambiare idea, eccovi gli arrivi speciali da non dimenticare. Intanto, già dal primo marzo sono arrivati e resi belli disponibili due film di Iron Sky. Saranno nasi vostri e la battaglia continua. Due film satirici e demenziali di fantascienza prodotti grazie al finanziamento diretto. Non perdeteveli per nulla al mondo, fidatevi da un Ariano come me. Invece l'8 marzo avrete la disponibilità di recuperarvi tutto Sherlock. In arrivo, con le quattro stagioni, eppure il film The Abominable Bride. Una serie che ha lanciato sia Cumberbatch che Freeman, anche questa imperdibile. Direi che questo mese, costosissimi MTIers, potete fare il pieno su Prime Video. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!